Il commissario Domenico Arcuri ha condannato la riduzione delle consegne delle dosi di vaccino anti-covid al nostro paese di circa il 29% in meno rispetto alla pianificazione, annunciato dalla società americana Pfizer. Ma non solo Arcuri ha denunciato che il colosso farmaceutico ha unilateralmente deciso in quali centri di somministrazione del nostro paese ridurrà le fiale inviate, annunciando che farà di tutto per tutelare il diritto alla salute dei cittadini italiani, riservandosi in assenza di risposte ogni eventuale azione conseguente in tutte le sedi. Pfizer ha però rassicurato che dal 25 gennaio riprenderà la normale fornitura. Intanto Arcuri ha anche annunciato che il primo milione di cittadini italiani è stato vaccinato. È un risultato del quale andare orgogliosi. Siamo il primo paese in Europa, ma siamo solo all'inizio.